Il 35esimo congresso nazionale dell'Associazione Podologi, un importante momento di incontro, di formazione, ma soprattutto una sfida. Maurizio Volpini è l'organizzatore, da tanti anni si fa una battaglia, la figura del podologo al centro del servizio sanitario. Credo che il podologo abbia un ruolo importantissimo, anche se molto spesso viene misconosciuto da tanti. Quindi spesso succede anche che noi come podologi non riusciamo a tutelarci da soli in modo adeguato. Il congresso e gli ultimi congressi che sono stati svolti credo che abbiano dato una grossa chiave di cambiamento importante per la nostra ATS e come società tecnico-scientifica stiamo lavorando anche per produrre quelli che sono lavori scientifici e momenti formativi costanti e continuativi. Proprio per questo vorrei ringraziare tutto il Comitato Scientifico e il Consiglio Direttivo che collaborano da sempre con noi. E quindi credo che l'arrivo oggi a questo numero 35 come congresso sia un risultato magnifico. Aspettiamo tra due anni il cinquantesimo anno dell'Associazione che dire sarà ancora un momento più importante per noi. e credo che sia il momento che tanti comincino a cambiare un po' idea su come possa essere la podologia veramente nel mondo. La podologia è importante e qui oggi ci saranno colleghi stranieri, ci saranno il Presidente della Federazione Internazionale, dei colleghi maltesi, il Presidente dell'Empode, il Presidente dell'Associazione Italiana Ulcere Cutanea, il Presidente della Sida MD, quindi abbiamo delle illustre personalità che vengono a garantirci proprio questo passaggio importante che c'è. Credo che questo sia un ulteriore momento di crescita. Gli argomenti che parleremo in questo congresso sono tre argomenti focali nella nostra vita quotidiana, lavorativa, ma anche di vita pura per tutti, per tutti e ognuno di noi, quale il bambino, l'anziano e sono due momenti veramente focali e fondamentali per questo. L'altro momento sarà dedicato a tutto quello che è il piede diabetico, una delle grandi patologie che purtroppo abbiamo oggi in Italia, ma anche nel mondo fondamentalmente e tutte quelle che sono le ferite del piede. Quindi speriamo che in questo riusciamo a ottenere dei grandi risultati e dare un'ottima formazione a tutti i discenti che saranno presenti al congresso. Un saluto a tutti i colleghi che sono qui credendo in questo tipo di attività.